Questo è il Belluno Pride 2024, poco prima del corteo, pieno di colori, trucchi e parrucchi. Una sola osservazione. Nel documento politico di questo Pride è scritto, fra l'altro, che la manifestazione pretende, ripeto, pretende il reddito di autodeterminazione, che probabilmente è un reddito di cittadinanza sotto mentite spoglie e in versione LGBT+. Allora una domanda sorge spontanea. Tutta questa gente che manifesta coraggiosamente ha potuto valutare, discutere, votare questa pretesa che è stata scritta alle loro spalle e a nome loro? No, di certo. E generalmente tutti costoro neppure sanno dell'esistenza di questo documento, che tuttavia li coinvolge su una richiesta che a molti italiani, anche del mondo arcobaleno, risulterebbe assai indigesta. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.